grande giornata domenica partiti è in vantaggio Saki Martino davanti a King Iron Cioccolata Pure King, Zepp Maio, Gemma dell'Olmo, Khartoum, Ercole Whipstorm, Gladius, Antidodo dopo 300 metri di corsa è in vantaggio Saki Martino davanti a King Iron, Zepp Maio Pure King, Khartoum, Cioccolata, Whipstorm, Old West, Ercole, Gladius, Antidodo e Tarbush all'inizio della curva prosegue in vantaggio Saki Martino davanti a Pure King, Khartoum King Iron, Zepp Maio, Whipstorm, Gladius, Cioccolata poco prima dell'ingresso indirittura Saki Martino e Pure King conducono davanti a King Iron e Khartoum i cavalli entrano indirittura con Saki Martino in vantaggio davanti a Pure King Zepp Maio per l'ininterno e King Iron a centropista Antidodo con più all'interno Gladius e Cioccolata all'interno è Saki Martino, all'esterno Pure King in leggero vantaggio Saki Martino davanti a Pure King Antidodo, Old West e Cioccolata in vantaggio Saki Martino attaccato a centropista da Antidodo passa Antidodo davanti a Old West Saki Martino oppure King ed Ercole Saki Martino attaccato a centropista da Antidodo Saki Martino attaccato a centropista da Antidodo